Il nostro atteggiamento produttivo è quello di produrre vini con una filosofia comune ma ognuno con una sua personalità ben definita in modo che ogni linea, in particolare ogni vino, evochi l'emozione che abbiamo pensato prima di produrre quel vino. In particolare qui abbiamo la nostra linea base che è quella dedicata alla civiltà contadina da cui riprendo il concetto di vino come prodotto da bere, prodotto bevanda e quindi la linea dove c'è l'esasperazione appunto della filosofia aziendale. I vini con un approccio abbastanza facile ma vini che devono far scattare la seduzione perché questi sono appunto i vini della seduzione. Quindi tutte le tecniche affinché il vino ti invogli a bere. Vini con un'acidità abbastanza moderata, vini quindi che fanno la malolattica, anche il bianco fa la malolattica, vini che ricevono una microossigenazione perché il vino finché ti invogli a bere ti deve dare la sensazione di vino maturo e quindi l'ossigeno in questo senso gioca un ruolo fondamentale. Di conseguenza questi vini prima di andare in bottiglia vanno incontro ad un processo di microossigenazione e poi altre tecniche, una fondamentale secondo me che riguarda i vini bianchi e rosati perché ricordiamolo ogni linea di vini è composta da un prebbiano, vino bianco, un cerasuolo, un vino rosato e un rosso, un montepulciano d'abruzzo. La scelta fondamentale è stata quella di riprendere una vecchia tecnica degli anni settanta per i bianchi e rosati, cioè di dare ossigeno al mosto appena si schiaccia l'uva in modo da ossidare tutte le sostanze ossidabili prima della fermentazione. Così durante la fermentazione alcolica queste sostanze precipitano e poi ci ritroviamo con un prodotto che come in un contrappasso dantesco non teme più l'ossigeno ma anzi più sta nel bicchiere più prende ossigeno e più diventa buono. Nella retro etichetta del Tomlo scriviamo che la seduzione è lo spazio tra ciò che si mostra e ciò che si lascia immaginare e lentamente assaporare sorso dopo sorso. Il concetto è questo che il vino ad ogni sorso ti fa scoprire qualcosa di nuovo ma già ti fa pensare che al prossimo sorso non ti deluderà. I vini della civiltà contadina sono Soma il Trebbiano, Mezzetto il Cerasuolo e Tommolo il Montepulciano. In pratica sono delle vecchie unità di misura agraria dove Soma è l'elemento base, il Mezzetto è un sesto di una Soma e il Tommolo è un terzo di una Soma.